Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Games Collection, sono il Cass e oggi vi parlerò di No Man's Sky. 18 quintilioni di pianeti sono i pianeti visitabili appunto su No Man's Sky, il nuovo gioco della Halo Games che oggi 10 agosto riesco finalmente a stringere tra le mie mani e che fra poco faremo l'unboxing, di Halo Games. Halo Games è una nuova software house, nuova si fa per dire, fondata nel 2009 da ex di Criterion e Electronic Axe e Cujo Games se non mi ricordo male, in quello che è il loro gioco più atteso degli ultimi anni. Presentato alle 3 di qualche anno fa, finalmente, come detto prima, posso arrivare a stringere No Man's Sky fra le mie mani. No Man's Sky rappresenta, se vogliamo, in questa introduzione vi sto facendo, una nuova che poi è relativamente nuova perché qualche anno fa questa concezione era già stata introdotta un nuovo sistema Open World. Tutte le volte che voi accederete appunto a No Man's Sky, questo vi genererà nuovi pianeti dove su questi pianeti voi potrete condividere, attraverso questa banca dati che è Atlas, le vostre interazioni con altri giocatori all'interno del gioco. In più, questa fantomatica cifra, mefistofelica, astronomica cifra di 18 quintilioni di pianeti, pare che darà difficoltà, se vogliamo, a trovare i due giocatori all'interno di uno stesso scenario, perché comunque dovete navigare prima di trovare un altro giocatore con cui interagire. Un Open World dove potrete esplorare, combattere, navigare, girare, raccogliere materiali, potenziare la nave, buttarvelo sbaraglio, potete fare proprio un po' quello che volete, la vera concezione di quello che è l'esplorazione. Ma, bando alle ciance, andiamo a vedere cosa contiene questa confezione. 80,98 per questa edizione di No Man's Sky, che poi a sorpresa sono diventati 75 perché ho preordinato da GameStop e ho avuto diritto a 5 euro tramite buono sconto su PSN direttamente sullo scontrino, in questa versione per PlayStation 4, e vi ricordo che il gioco esce anche in un'edizione molto più figa, però senza il gioco, ma con DLC per PC, in queste uniche due versioni, perciò o PS4 o PC, io naturalmente ho ordinato per PS4. Una confezione che richiama un libro mi porta subito a pensare qualche ricordo, qualche anno fa, di Alan Wake, in questo romanzo sci-fi, se vogliamo, di primo colpo, che mi dà questa confezione di No Man's Sky, che devo dire mi sta veramente intrigando un sacco. Molto molto semplice, ma allo stesso tempo a mio avviso molto molto bella. Vedete, è proprio un libro. Un'altra cosa che mi è balzata subito all'occhio è vedere la declassificazione a PG7 quando sotto, in traslucenza, si notava un 12. Andiamo a aprire però adesso quello che contiene questa edizione speciale. Dovrebbe contenere, in realtà è già scritto sul retro, quello che contiene, vale a dire la steelbook, un fumetto, è tutto scritto qua, una steelbook, un fumetto, un tema dinamico e qualche potenziamento, qualche DLC. Ma, scusate, anche un artbook. Andiamo a vedere un po' meglio. Faccio saltare il sigillo un secondo, cercando di non rovinare nulla. Perdonatemi l'uscita dall'inquadratura, ma era necessaria, proprio video in super diretta. Eccolo qua, questo cofanetto, vediamo già il gioco, questa steelbook di No Man's Sky. Un altro riferimento molto curioso mi fa pensare a Nadia, il segreto descritto The Secret of Blue Waters, questo simbolo strano. Gioco che poi vedremo in un secondo momento. Il libro, a questa scatola, vedete, un piccolo incastro, fatto molto bene. Diciamo che nella sua piccolezza mi piace molto questa confezione. Qua abbiamo un pianeta, penso. Eccolo qua, questo è quello che è il fumetto. Il comic book, cargo, in inglese. Sono sentinelle. Qua, naturalmente, parlerà un po', probabilmente, darà un minimo di introduzione. Non so se c'entra, forse una voglia di esplorare, parla di un cargo. Vedete, lo stesso monolita. Comunque, vabbè, fumetto, mettiamolo lì. Artbook, un artbook non troppo spesso, siamo circa sul mezzo centimetro, poco di più, che raccoglie in quello che è, in realtà, uno delle cose molto, molto belle, non mascai, voglio dire, fondali e scenari, dove, diciamocelo chiaramente, questo gioco punta il suo ruolo chiave, se vogliamo. Andiamo a vedere, qua ci abbiamo delle navicelle, naturalmente le navicelle e la nostra nave, durante il corso del gioco, anche come le nostre armi, saranno personalizzabili. e Hello Games e PlayStation. Andiamo a vedere, perciò abbiamo Artbook, andiamo a vedere quello che contiene la nostra confezione. Io ho i giochi lì super sminto così. Ah, un'altra particolarità è sulla rete, ho già visto qualche altro unboxing, e in alcuni casi ho visto una confezione che racchiudeva a sua volta questa confezione, a me è stata data così, non so se c'era, se non c'era, nel tal caso mi attaccherò al tram, se c'era. Io so già che compaiono i DLC, perciò non ve li faccio vedere, se no mi mamma sbambabate via il codice, gioco, stillbook, non è presente alcun libretto di istruzioni, uno scenario Norman Sky che mettiamo qua sto gioco, Hello Games, una bella stillbook. A mio avviso, probabilmente forse 80 euro, sono un pochettino tanti, io spero che il gioco mi piace, diciamo che è un po' sul mio genere, e vi farò sapere presto com'è. Qua naturalmente il contenuto scaricabile che era dentro a stillbook, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, e ci vediamo tutti al prossimo video, ciao a tutti!